ciao a tutti eccoci qua per il proseguimento del tutorial su cura 3d versione nuova e ho inserito un file un file che avevamo visto ancora le prime volte e per i seguenti motivi perché posso mettere supporti quindi voi potete vedere dove li posiziona e perché è molto veloce è molto leggero quindi il caricamento è veloce vediamo com'è questo file ricordo sempre che con la rotella si avanza e si indietreggia quindi si zooma l'oggetto con le freccette possiamo andare a destra a sinistra in alto e in basso vedete l'oggetto che lo visualizzo in ogni tipo di angolazione e andiamo sulla visualizzazione layer tutti gli strati questa visualizzazione fondamentale perché potrete prevedere quello che farà la stampante 3d sempre bene conoscere gli effetti di ogni parametro che viene inserito a molti clienti molte persone gli lascio direttamente i g code ma siccome il g code varia a seconda della stampante sempre meglio capire a fondo il parametro che si va a modificare partiamo in modo rapido e vediamo le i nuovi parametri di stampa anzitutto zoomiamo un po andiamo a metà dell'oggetto vedete che riempito altezza dello strato l'abbiamo già vista riepilogando velocemente è l'altezza dello strato che deposita la stampante va dal basso verso l'alto ogni volta che sale fa uno strato altezza dello strato iniziale 0.2 vuol dire che il primo livello il primo strato vedete questo lo fa al spesso 0.2 il doppio ok perché perché lo strato iniziale deve essere per me è più corposo perché deve garantire maggior adesione al piano il piano non va lasciato troppo staccato dalla testina perché perché altrimenti il materiale non si stende bene e l'oggetto si stacca in fase di stampa fondamentale vedere che il primo strato sia spalmato bene vediamo un cuscio spessore delle pareti l'abbiamo già visto lo vediamo evidenziato in questa visualizzazione con rosso e verde rosso quello esterno verde quello interno in questo caso abbiamo messo pareti per una lunghezza per una di otto decimi 0.8 il nostro ugello cioè il puntino che rilascia il materiale è 0.4 lavoriamo sempre a multipli due pareti io lavoro quasi sempre con due pareti sembra poco ma con un supporto interno è anche senza supporto interno alcune volte regge veramente tanto poi se il materiale il pla estruso a temperatura adeguata non delamina neanche è bello aderente spessore dello strato superiore e inferiore passiamo subito quelli dopo perché modifichiamo direttamente questi io ci sono casi in cui voglio stampare col vecchio cura potevo impostare una dimensione per il lato superiore e inferiore indipendentemente da quello che fosse il lato uno per tutti diciamo in questo caso ce lo fa impostare o per tutti o per quello superiore o per quello inferiore quello inferiore essendo l'ultima parte e avendo visto che non viene steso bene ci rimangono dei buchini ovvero lo strato superiore non chiude totalmente l'oggetto l'ho tenuto un po più abbondante quindi 1.2 mm il nostro strato è da 0.1 mm farà precisamente 12 strati spessore dello strato inferiore è quello che mi interessa meno e non lo lascio 1.2 ma lo diminuisco perché perché magari devo replicare tante volte questo oggetto quando replichiamo andiamo su alte tirature per me è il caso di capire qual è il giusto compromesso ok perché più materiale si mette e più costa il costo del PLA è basso sì no non si sa è basso se uno ha una stampante è basso sì se uno ha una stampante perché il costo per produrre un oggetto il costo del materiale fatti conti è basso è alto è anche alto perché chi fa da servizio stampa comunque o chi stampa tanto ovviamente acquista tanto e il PLA costa circa 28 30 euro al chilo quindi è poco per chi è una stampante è un costo basso perché una stampante è un costo alto invece per chi stampa linee allora configurazione dello strato superiore inferiore lo lasciamo sempre a linee vuol dire che come fatto come sono fatti gli strati superiore inferiore sono a linee ovvero le linee quando si vedono ma sono tutte direzionate come il riempimento qua è composto da linee ok una vicino all'altra ci sono altre configurazioni che possono essere concentriche al zig zag io lascio sempre linee provate qua c'è una parametro da selezionare o no che è parti esterne prima di quelle interne allora questo parametro determina anche la regolarità diciamo della parete esterna cioè quando vedete un oggetto che è completamente liscio è ok quando invece non è liscio ma ci sono dei puntini o delle sbavature magari in corrispondenza con il riempimento con le linee di riempimento probabilmente questo è un valore da selezionare o deselezionare il riempimento il riempimento io ero abituato come ho sempre detto a lavorare con un cura differente questo qua e ho installato quello nuovo e ci sono veramente dei dei valori che aiutano sia a stampare l'oggetto bene che anche a comporlo nel modo migliore possibile la densità di riempimento io l'ho impostata 25 per cento questa zona qua è riempita al 25 per cento vedete questi quadratini piccoli piccoli medi ok questo qua è riempimento 25 per cento poi a griglia posso farlo diventare a linee a triangoli cubo eccetera eccetera provate lasciamolo adesso a griglia per comodità spessore dello strato di riempimento 0.1 questo qua facciamo un test e mettiamolo 0.2 e vediamo se ce lo lascia fare lavorando comunque a 0.1 è la prima volta che utilizzo questo tipo di parametro e sono un po adesso io non so bene dire se sarà effettivamente così se non ho capito male proverò comunque a stampare in azienda a fare un gcode e lanciarlo gli strati non che compongono non il riempimento vuol dire le pareti esterne dovrebbero essere alti 0.1 come impostato sopra mentre la parte del supporto dovrebbe essere lavorare invece 0.2 vuol dire che ogni due strati di parete ne fa uno di riempimento se è così verificherò vuol dire che dimezziamo il tempo di stampa del supporto andiamo più veloce fasi di riempimento graduale fighissima questa opzione cos'è che ci consente di fare vedete che qua si dice indica il numero di volte per dimezzare la densità del supporto del riempimento io dico che per due volte si deve dimezzare quindi io verso il lato superiore vuol dire dove sarà vicino al lato superiore questa zona qua fra poco vedrete che diventerà gialla perché salendo andrà a mettere un riempimento superiore adesso non funziona la visualizzazione maledetto questo momento ma il concetto è che questa parte qua verrà coperta quando verrà coperta un po prima diventa riempimento 25 per cento fitto dove non si coprirà ovvero questa parte qua salirà 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 verrà coperta dopo il riempimento lo farà molto più molto più largo vedete questo perché per risparmiare per risparmiare materiale perché dentro l'oggetto ci può rendere un po più cavo la visualizzazione ottimo funziona vedete che salendo 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 dove ci sono c'è riempimento 25 per cento si chiuderà avete visto adesso ok e via via dove c'è riempimento 25 per cento si chiuderà vedete qua ci sono tre step di riempimento uno è questo qua che vedete fitto un altro è meno fitto e l'altro è ancora meno fitto che era verso il basso questo ok poi riempimento prima delle pareti è come questo è più o meno un comando che dice fai il riempimento prima delle pareti io direi che per oggi è tutto alla prossima grazie grazie